La ferocia dei social network non risparmia nessuno. L'ultima da prenderlo a sue spese è stata la bellissima Frida Gustafsson, top model e angelo di Victoria's Secret. Da un po' di tempo a questa parte, su diversi blog serpeggiano commenti al vetriolo su di lei. Alcuni utenti si dicono dispiaciuti del fatto che abbia deciso di ingrassare. Tali osservazioni non mancano di comparire anche nei commenti alle foto che la modella è solita pubblicare sui social. C'è chi la definisce troppo grassa, chi addirittura zarda un sei vecchia. Frida Gustafsson ha 22 anni. È alta 1,80 m e porta una taglia 40. In questi giorni ha deciso di replicare gli attacchi. In pochissimo tempo, le sue parole hanno fatto il giro del web, donando speranza ai tante donne che ogni giorno vengono prese di mira semplicemente perché non esibiscono un corpo perfetto. La modella ha scritto sul suo profilo Instagram. Per tutti voi che vi sentite in diritto di fare commenti negativi e odiosi su mio corpo o su quello di qualsiasi altra donna. Per favore non fatelo. Niente in questo mondo migliorerà diffondendo odio negatività. Infine ha aggiunto. Per essere onesti, sono molto felice e mi sento a mio agio con il mio corpo per la prima volta da anni. E non mi considero grassa ma forse voi avete un'altra opinione sul corpo ideale delle donne. Infine, penso che commenti come. Stai ingressando, invecchiando, sei stanca? Diretti ad una donna in generale siano molto problematici. Possiamo provare ad avere una mente più aperta e a sostenerci l'un l'altro anziché cercare di sminuirci. Vi auguro una buona giornata. Chi se ne frega.